Cambio programmazione Mediaset 19 marzo, Amici 22 in Daytime, Terra Amara si allunga. Cambio programmazione sulla rete Mediaset a partire da domenica 19 marzo nella fascia del pomeriggio. Le novità saranno legate alla sospensione del Daytime domenicale di Amici 22, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui sta per debuttare il serale in Prime Time. A quel punto, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset verrà rivoluzionata, dato che al posto del talent show, ci sarà spazio per la messa in onda delle soap opera, tra cui Terra Amara. Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset previsto a partire dal prossimo 19 marzo 2023 sarà legato alla messa in onda di Amici 22, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi. Anche quest'anno leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti. La trasmissione di Canale 5 ha avuto un'annata fortunata dal punto di vista Auditel. Con una media di spettatori che ha superato il muro dei 3 milioni di fedelissimi e uno share che ha toccato anche il 28% in Daytime. Numeri che, anche quest'anno, hanno permesso a Maria De Filippi di vincere la gara di ascolti della domenica pomeriggio, battendo nettamente e costantemente la concorrenza Rai. L'unica eccezione si è avuta in occasione della puntata speciale di domenica in dedicata al Festival di Sanremo, che riuscì a battere il talent show di Canale 5. Sta di fatto che, dal 19 marzo in poi, l'appuntamento con il Daytime domenicale di Amici 22 risulta sospeso dalla programmazione della rete Ammiraglia Mediaset. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda nuovamente in Prime Time, da sabato 18 marzo. Infatti, ci sarà il debutto del serale e di conseguenza verrà sospeso l'appuntamento del pomeriggio festivo. Il palinsesto di Canale 5 subirà così delle modifiche e per evitare di lasciare scoperta la fascia oraria che va dalle 14 alle 16 e 30 ecco che ci sarà spazio per la messa in onda delle SOP. Dal 19 marzo, infatti, la programmazione di Beautiful e Terra Amara subirà dei cambiamenti dato che le due SOP saranno in onda regolarmente anche di domenica pomeriggio. Si partirà alle 14 con una puntata di un'ora della SOP americana e poi, dalle 15 alle 16 e 30. Ci sarà spazio per i nuovi episodi di Terra Amara. Una buona notizia per tutti gli appassionati della SOP Opera Turca, dato che l'appuntamento si allungherà anche alla domenica pomeriggio con una puntata extra-large di un'ora e mezza, che permetterà sempre più di entrare nel vivo delle trame. Come se la caveranno le due SOP in questa programmazione domenicale? Riusciranno a tenere testa gli ascolti di domenica in in onda su Rai 1? Al pubblico da casa spetterà l'ardo a sentenza finale. Non c'è più aia vant, nici un curcubeu, da c'è c'è toate astea-s doar in capul meu. Perché non, 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 non mai am nimic di ascolti, pot să mă ritrov? Non c'è più aia? Grazie a tutti